Buongiorno, allora come al solito non è presto, è mattinata inoltrata, come al solito i miei capelli fanno schifo, ma oggi mi sono imposta di fare la tinta, me lo sono imposta perché non è possibile, ovviamente sempre super struccata, ma ragazzi stamattina ho praticamente messo la roba estiva primaverile, passatemi in termine, quindi tutte quelle cose a maniche corte, leggere, non le cannottiere e quelle fine, i vestitini fini perché ancora no, l'ho messi tutti nella parte sotto e ho messo via le cose proprio quelle belle pesantone invernali tipo lana, pile eccetera, quindi me so praticamente impazzita, in più avevo Adriano sveglissimo ovviamente, quindi Adriano sveglissimo vuol dire che o ci parli o gli stai dietro, se no lui attacca a strillare, quindi ho fatto in quel modo, mi sono messa lì, gli chiacchieravo eccetera eccetera, adesso sei addormentato, infatti è di là che sta addormendo, e io ho approfittato, sono venuti qua, ho steso i panni di fuori, oggi c'è un sole fantastico e adesso devo piegare tutti questi che sono di Adrianino, che sono un po' cose che gli ho comprato, un po' cose che mi ha regalato una mia amica, che abbiamo fatto un cambio perché a lei praticamente gli nascerà una femminuccia e allora io ho dato un po' di cose di Aurora che erano tenute bene, dei primi mesi, e lei mi ha dato un po' di cose del suo, che ovviamente non gli serviranno più, e che sono prettamente maschili, quindi adesso mi tocca questo, e poi devo pensare al pranzo, sia per Adriano che per noi, oggi è martedì quindi siamo in tre, io Samuele e Adriano, Samuele è praticamente in, è andato praticamente all'altra casa a sistemare, è andato all'altra casa a sistemare perché abbiamo un attimo un progetto in corso, la stiamo un po' sistemando, e niente, ok, non c'ho voglia. Raga, eccoci qua, siamo, siamo pomeriggio, ne sai, sono le due e mezza, sono distrutta, distrutta perché c'è Adriano che stiamo facendo lo svezzamento, ma non ci siamo proprio, mi ha fatto un po' di testa allucinante, però ci vuole pazienza, io sinceramente con gli altri due non mi ricordo, è passato troppo tempo, però dice che ci vuole pazienza, abbiamo pazienza, si vede che mi ha distrutto proprio l'anima oggi, oggi è stata proprio pesante, e va bene, adesso provo a riposarmi un attimo, visto che gli altri due non sono ancora tornati, e speriamo che nei prossimi giorni vada un po' meglio questo svezzamento, non lo so, voi come avete fatto, io sinceramente non mi ricordo più come erano gli altri due, ho posto troppo tempo, mi fate sapere un po' voi come avete fatto, vi prego. Eccoci qua, allora, siamo arrivati al momento fatidico alle 5 e mezza del pomeriggio, ragazzi, finalmente riesco a farmi la tinta! Allora, ho preso questa qui della palette, perché la confezione è piccola, io ho i capelli cortissimi, quindi ho preso questa, e ho preso la colorazione castano-mocano, che è quella che ho già in testa, che poi io adoro i riflessi rossi, comunque se mi conoscete da un po' sapete che io sono amante del capello rosso, ho fatto anche i capelli rossi, ho fatto le mesh rosse, insomma ho fatto un po' di cose rosse, e quindi, però, di base rimango sempre sul mogano, sul rossastro, diciamo, non vado mai sul colore, credo, perché non mi piace. Ho provato solamente una volta il blu, ma non è per me, non mi piace proprio per niente, come mi sta troppo scuro. E quindi niente, quindi ci prepariamo per fare la tinta, voi adesso mi vedete così, quindi vedete il prima, e tra un po' vedrete il dopo. Ecco qua, un'ora dopo questo è il risultato. Sì, devo dire che ha coperto praticamente tutti i capelli bianchi che avevo, per fortuna, bravissima, bravissima io, e adesso, adesso niente, esco dal bagno perché sto sfiatando, c'è troppo caldo. Sì, perché prossimo anno alle medie non c'è il grembiule. Sì, questa è la verità, è la verità, questi sono tutti i pantaloncini che devi... Penso che la maestra di storia, ha detto che vorrebbe che alle medie si usasse sto colpo. Ma per carità, mica lo sa quanto avevamo penato per cercarlo della tua altezza. Ragazzi, oggi mi sono vestita, evviva, sono riuscita a vestirmi e ho messo questo qui, che è il nuovo, uno degli ultimi, diciamo, completi di Ocean che ho preso. L'ho preso perché mi piaceva tantissimo questa cosa qua e poi mi piaceva tantissimo il sopra perché non è il classico sopra. E devo dire che mi piace, mi piace, è confortevole. Non pensavo mai, visto sti lacetti qua, pensavo che erano strettissimi. Invece devo dire che perfetti, perfetti, perfetti. Ovviamente io non sono in formissima, come potete vedere. Anzi, ho ancora la diastasi addominale, quindi figuratevi. Però, insomma, oggi, visto che fa caldo e questi pensavo fossero più pesanti, invece sono leggerissimi. Quindi, mi piace, mi piace, mi piace, mi piace tantissimo questa cosa qua. Vabbè, ora però, sopra ovviamente, dopo ci metto una maglietta perché non ce l'ho a un giro così, per carità, devo a far ridere i polli, ma soprattutto, se rigirano le persone, cioè, penso che gli faccio prendere un colpo, un mezzo colpo e va bene. Adesso, per la vostra gioia, mi truccherò anche. Allora, sì, ragazze, oggi praticamente mi trucco pure perché... Perché devo uscire dopo, cioè, oggi è mercoledì, ci hanno carate, quindi avanti, indietro, avanti, indietro, ci hanno pure catechismo, oggi sarà una giornata interminabile. Tra parentesi, io ancora non ho capito, cioè, se i maestri, cavolo, ci hanno in testa, praticamente Aurora continuano ancora a dare i compiti e siamo al 31 di maggio. Gli continuano a dare i compiti, gli continuano a far far verifiche su verifiche. Morta com'è, perché è veramente finita, distrutta alcune verifiche. Non sono andate benissimo, però diciamo che hanno abbassato un pochino la media, ma non è che... Cioè, insomma, non è un'insufficienza. Però, cioè, almeno sti ultimi giorni, no? Ma lasciate perdere, sti ultimi settimane, lasciate perdere dagli compiti, no? Per domani ci hanno i compiti. Cioè, pure per domani. E oggi ci hanno, catechismo ai tre, karate alle quattro e mezza Alessandro, karate lei alle cinque e mezza, alle cinque e tre quarti, diciamo, ma come fa questa? Cioè, siamo al 31. Domani è il primo di giugno, poi in teoria ci sono tre giorni. Cioè, volete vedere che per lunedì sei, che praticamente è l'ultimo giorno, perché poi il martedì ci hanno una giornata dedicata allo sport, quindi scuola non fanno niente, e l'otto è l'ultimo giorno. Se non lo volete scommettere per il sei, ci hanno i compiti, scommettete. Se non riesco a dirvelo qui su YouTube, ve lo metto su Instagram. Giuro, 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 giuro. Mi ricordo e lo metto su Instagram, se ci hanno i compiti. Però, cioè, è una cosa improponibile, non si può. Va bene. Aspettate un attimo che Adriano ristrilla. Ecco. Allora, niente, oggi mi volevo truccare, perché comunque, cioè, quando vado in giro per portare loro, comunque un minimo, un minimo, eh, un minimo indispensabile, mi trucco. Visto che ho fatto un ordine su Shane, tempo fa, e mi sono arrivate delle cose di She Glam, che è la linea beauty, i trucchi di Shane, quasi quasi la proviamo insieme. Adesso prendo le cosette che mi servono per fare un trucco basico, e poi le proviamo insieme. Allora, ho preso tutte cose basiche. Vediamoci gli occhiali. Speriamo di vederci, ragazzi, perché io so cieca. Allora, come prima cosa, utilizzo il correttore. Questo è She Glam Peanut Butter. È un semplicissimo correttore. Aspettate, però, faccio una cosa. Allora, scusate, ma sapete che con Adriano è impossibile. Allora, mettiamo il correttore. Questo, vi devo dire la verità, l'ho già usato una volta e mi era piaciuto. Adesso non ci vedo, raga. Scusate, eh. Mi sembra di essere tornata ai primi video che facevo. I primi video che facevo, ovviamente, come quasi tutte quelle del mio periodo, che hanno iniziato nello stesso periodo mio, praticamente abbiamo iniziato facendo video di trucco sull'onda di Clio. Poi, piano piano, YouTube è cambiato, ovviamente. Questo è il risultato. A me piace. Forse voi dalla videocamera andate al telefono non riuscire a vederlo, ma vi assicuro che non c'ho niente. Adesso passiamo al fondotinta. Allora, io ho preso questo qua, che è un fondo in polvere. Skin Focus Eye Coverage Power Foundation Butterscotch. Speriamo di aver scelto giusta la cosa. Prendo il mio e vado. Io quando faccio dei trucchi da giorno preferisco usare questo. quando invece c'ho delle cose un po' più importanti mi metto il fondo, il fondo, quello liquido, diciamo. Infatti, mi sa che ce n'ho uno. Invece uso tantissimo questi. Beh, devo dire che il colore è il suo. Il colore è il suo. Ah, ecco, così si vede meglio. Sei un genio. Genio, 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 Emanuela, genio. Eh, devo dire che così... Così, sì, mi piace, mi piace molto. Ho decisamente scelto il colore giustissimo per me. Poi, adesso voglio provare questo, che è un Do It All 2 in 1 eyeliner. Questo mi ha tanto interessato. Perché? Perché ha la parte dell'eyeliner, ok? Semplice, nera. E la parte di qua che invece è una sorta di cancellino se voi fate le sbavature o se volete dargli proprio una forma precisa. Adesso lo provo. Non so come verrà, se verrà una ciofega. Pazienza. Però non posso farvelo vedere qua perché devo essere concentratissima per l'eyeliner. Quindi vedrete direttamente come viene. Allora, avevo finito la cosa, la memoria. Allora, questo è l'effetto dell'eyeliner. Mi piace, mi piace. Il cancellino funziona perché l'ho provato. Adesso metto il mascara che mi sa che non è DC Glam. Anzi, facciamo una cosa. Mettiamo prima queste altre cose. Mettiamo questo, che è un duo. Ed è un highlighter e blush duo. Allora, apriamo. Ho preso questa colorazione qua, aranciata, che è molto semplice. Almeno non ho preso una cosa particolare. Proviamo subito il blush. Carino, molto naturale. Carino, carino, carino. Sì, sì. Ci piace, ci piace. E adesso proviamo l'eyeliner. L'eyeliter. Aspetta, vi faccio un filo. Bello. Dorato come piace a me. Che bello. Io lo metto pure qui. E qui. E qui. E qui. C'è un po' ovunque. Però bello, molto bello. Sì, sì. Voi non penso che vedrete in granché, però mi piace molto. Delicato. Ok. E niente. Ora metto il mascara. E ho praticamente fatto. Ok. Sentite silenzio, perché per fortuna Adriano si è addormentato. ha mangiato e adesso sta addormendo. Sta facendo il suo pisolino. Devo dire che mi piace tantissimo la base che mi ha fatto quel fondo in polvere, perché è molto naturale, però levica al punto giusto. Poi, cioè, l'illuminante è fantastico. Cioè, guardate che spettacolo. Pure nel naso si vede subito. Mamma mia, che bello. Va bene. Vi volevo far vedere delle cose che mi sono arrivate su Amazon che ho preso per Adriano. Allora, io ho preso questi. Allora, io ce l'avevo presi due già di questi qui grandi per la pappa, ma questi sono veramente giganti. Sono praticamente il doppio. Stanno bene a me. Cioè, però... Cioè, chi è mamma sa che durante lo sversamento la pappa va a finire pure sul soffitto. E quindi gliel'ho voluti prendere. Sono... Tanti sono... Sei. Sono sei bavaglini della Disney. L'ho presi su Amazon. Cercavo dei bavaglini grandi. Ho trovato questi. Con topolino mi piacevano. E poi, Samuele, gli ho voluto prendere questi. Che sono quei bavaglini di plastica con le maniche. Cioè, raga... Qui se ne provano di ogni pur di farlo mangiare divertendosi. E su Amazon pure questi l'ho trovati. E c'era la cosa, la confezione da quattro. C'è questo qui con i gufetti verde. C'è questo con la macchinina rossa e azzurro. Questo arancione con l'orsetto. E questo con la pina, che è tutto giallo. Che secondo me sono carinissimi, anche da femmina. Perché poi alla fine non esistono colori maschi e femmina. E quindi gliel'ha voluti prendere. Ora vediamo se con questi bavaglini riuscimo a non fare un disastro. E poi adesso adesso mi è arrivato un altro pacchettino. Che apre un diretta con voi. Ma io so già cosa è. So già cos'è. Spero che siano tutte e due le cose che mi dovevano arrivare. Se no mi arrivano in due momenti diversi. E... Oddio, oddio. E infatti è solo un pezzo. È solamente una cosa. L'altro non c'è. Vabbè, perché ne arriverà. Allora, gli ho preso questo. Allora, questo qui io l'ho visto su internet tantissimo. È praticamente... Rumori strani entro casa. È praticamente un ciuccio. Che si apre. E qui praticamente ha questa tettarella. In silicone. Ce ne dovrebbero essere anche altre tre misure qua dentro. Ce ne stanno di tutti i tipi. Di tutte le marche. Di tutti... Di tutti i generi. Sì. Ce ne stanno altre. Ammazza quanti. Non avevo capito che erano così tante. Pensavo che erano solo tre. Va bene. Sono... Ah, perché giustamente essendo due i ciucci sono di più. Ok. Sì, ma questo ce ne... Ah, questi ce ne stanno... Sì, questi sono uguali. Vabbè. E niente. Praticamente ci sono tutte queste tettarelle. Vedete? Una un po' più grande. Una un po' più piccola. Una ancora più piccolina. Che vanno per mesi del bambino. Praticamente a cosa servono? Voi mettete la tettarella dentro. Ok? Vedete? In questo modo è dentro. Qui dentro ci potete mettere o la frutta o non so, qualcos'altro. I pezzettini di frutta maggiormente. Soprattutto la frutta tipo i mandarini che magari per un bambino piccolo di pochi mesi è pure pericoloso. Gli lo mettete qui dentro e lui ciuccia il succo. Si chiude. Si leva questo e il bimbo ciuccia. Ok? Allora, io non so quanto questa cosa... Io ho preso la confezione da due perché mi sembrava quella più economica. Poi comunque se non mi serve uno lo do a mia cugina che ha la bimba. Insomma, lo vediamo. Allora, l'ho presi. Devo dire la verità perché soprattutto Samuele e Alessandro sono un po' timorosa. Così, a dargli le cose in mano che lui se le mette in bocca. Io un po' meno ma perché sto sempre con l'occhio. Ok? Però visto che non è che il posto sempre sta con l'occhio a guardaglie. Ogni tanto dovrà fare pure delle cose dentro casa. Ho detto, va bene, proviamolo. Pure Samuele mi ha detto, ma sì, ma prendilo. Poi alle brutte, insomma, lo regaliamo a qualcuno. Ho pure letto delle recensioni, cioè no, delle recensioni su internet. Ho letto dei pareri su questi. Anche da parte di pediatri. Ho letto che non c'è nessun tipo di controindicazione, tra virgolette. Nel senso che lo consigliano soprattutto per fargli capire i sapori diversi. Ecco, magari della frutta o alcuni addirittura ci mettono dentro la vappa, ma io la vappa non ce la metto. Insomma, vediamo un po'. Oggi lo proviamo. Magari a pranzo lo provo. Spero che funzioni. Spero che gli piaccia più che altro. Perché se no... E penso che dovrò utilizzargli questa piccina a lui, ancora perché va da 3 a 6 mesi. Poi c'è questa media che va da 6 a 12, mi pare. E questa a 12, 24, non 12, 18, vabbè. Comunque, staremo a vedere. Voi ditemi se li avete provati questi con i vostri figli, se c'è qualcuno che li ha provati. E comunque vi lascio i link di queste tre cosine che mi sono arrivate da Amazon sotto nel box info. Così se volete prenderle o... Insomma, il link è già pronto. A posto. Oggi pranzo leggero. Leggerissimo. Porchetta per tutti. Porchetta per tutti. Il minimo fa pure un po' di contorno. Mamma mia. Non è più bene. Non è più bene. Cento, cento. No, cento di questo. Così. Ma smettila. Allora. Questo è... Aspettate. Questo è l'outfit di oggi. Ovviamente con le scarpe, senza scarza ovviamente. Ho dovuto mettere questo perché mi vergogna un po' perché ho praticamente il culo di fuori. Il sedere di fuori, scusate. E quindi ho messo... Ho messo questo. Questo gilettino lungo. E va bene così. E ora metto le scarpe a ginnastica. E poi tra un'oretta circa vado a prendere i bambini che sono andati a catechismo. Aspettate in giro. Vado a prendere i bambini che sono andati a catechismo. Sono andati con gli amichetti in macchina. E niente. E poi karate. Karate finirà a fine giugno praticamente. Tutto il mese di giugno. Però meno male perché almeno hanno da fare qualcosa e non stanno dentro casa tutto il tempo. Allora, eccoci qua. Sono le sette. E tra un po' spero che arrivino Aurora o con Samuele perché Aurora ha karate fino alle sette meno un quarto. E spero che arrivino presto perché deve ancora finire i compiti. Ragazzi, a tre giorni dalla fine della scuola ancora gli danno i compiti. Va bene, questo l'ho già detto. Già l'ho fatto questo discorso. Non lo voglio fare più. E io nel frattempo ho messo su le melanzane. Ho fatto le melanzane al forno come se fossero una sorta di parmigiana con il pomodoro e la provola sopra. E le ho messe in forno adesso. Stasera vado depressa, come si dice, perché c'è la partita stasera. Quindi speriamo, non dico niente, speriamo. E niente, poi ceniamo. Faccio gli hamburger di salmone e di merluzzo che ho preso alla Copp. Che ci piacciono. Ci piacciono molto. Sono un'ottima alternativa al filetto di merluzzo classico che si trova nel surgelato. Perché a me non piace. E mi sa veramente triste. Di una tristezza infinita. Quindi preferisco quello. Che comunque c'ha un retrogusto di limone perché è condito con il limone. E facciamo quello per cena. Ai bambini gli faccio due patate in frigitrice ad aria. Perché loro le melanzane non le mangiano. Forse Aurora le assaggerà. Ma Alessandro non credo. Quindi gli faccio le patate. E poi partita. Tranquilla proprio. Stasera proprio tranquilla. E di fuori, ragazzi, ricena un'altra volta la pioggia. Allora, noi ci abbiamo in programma due scappate a Roma sto fine settimana. Quindi speriamo che non piova. Altrimenti siamo del gatto. Perché andare a Roma con la pioggia è un disastro. Io che ci sono cresciuta a Roma. Nata no. Perché sono nata da un'altra parte. Però è come se ci fossi nata. Vabbè. Questa è una digressione mia. Speriamo che non piove. Incrociate le dita per noi. I piedi. Le dita dei piedi. I piedi, i gambe, le braccia, tutto. Incrociate tutto. Perché poche volte noi ci muoviamo per andare a Roma. E visto che facciamo questa cosa, soprattutto per i bambini, per farli divertire, mi eroderebbe un po' il C per se piove. Ecco, questo è il succo. Comunque adesso sentite che bel silenzio. Perché Alessandro si è fatto la doccia e sta di là in cameretta. Sta a guardare la tv, sta a guardare YouTube. Non lo so che cavolo guarda. Però sta tranquillo e va bene così. Sennò poi mi comincia a venire di qua. C'ho fame, c'ho fame. Mi comincia a mangiare il mondo. E non va bene. Anche perché deve calare un po' di peso, ragazzi. Cioè diventa una palletta che cammina. E Adriano finalmente si è addormentato. Ci ha messo un'ora e mezza per addormentarsi. Quindi lo lascio dormire tranquillamente. Se poi si sveglia, gli do da mangiare tranquillamente. Però deve dormire un attimo perché sennò sclera. Per di più non c'ha neanche fame perché ha mangiato un'ora e mezza fa e ha fatto merenda. Quindi figuratevi. Non gli posso dare da mangiare subito adesso. Tanto non mi mangerebbe. Quindi tanto vale aspettare dopo che magari c'ha un po' più di fame e mangia un pochino di più. Detto ciò, detto ciò, io mi riposo due minuti, due. Senza nessuno. I momenti di, come dire, di silenzio e di tranquillità bisogna sfruttarli al massimo dentro casa mia. Al massimo. E quindi io li sfrutto al massimo. E niente, tutto qua. Quindi semmai vi faccio vedere dopo come è avvenuta, come sono venute le manzane e vi faccio vedere gli hamburger di salmone e di merluzzo. Io vi faccio vedere gli hamburger di salmone e di merluzzo. Grazie a tutti.